Dopo il Media Day si torna regolarmente in palestra al Palà Carrara di Pistoia con coach Calabria che presiede regolarmente agli allenamenti. Elia Schiltz ha parlato in conferenza stampa prima dell'impegno di Varese parlando innanzitutto di quello che è il clima all'interno dello spogliatoio. Sì, in spogliatoio assolutamente nessun problema, anzi tutti quanti ci parliamo, ci vogliamo bene, con diversi giocatori usciamo insieme, ognuno esce in un gruppo, però se non tutti insieme usciamo qualcuno. La cosa direi è che ancora stiamo cercando, per quanto riguarda il campo, stiamo ancora cercando di conoscerci bene e capirci. Clima coeso dunque all'interno dello spogliatoio bianco-rosso perché all'orizzonte arriva un impegno tutt'altro che semplice con Varese, ancora a zero punti, impegno non semplice soprattutto proprio per lui, per Elia Schiltz. Sì, effettivamente loro sono una squadra un po' unica, loro vanno su e giù, tirano da tre, giocano uno contro uno, è una squadra diversa. La cosa che posso dire è che come la settimana scorsa Venezia era la squadra un po' disperata e sono venuti e si è visto, ora anche loro saranno un po' disperati, però sta a noi essere più disperati di loro, metterci più noi che loro questa settimana. Per quanto mi riguarda personalmente, diciamo che i rimbalzi sono forse delle cose che mi vengono più naturali e devo cercare di fare quello che mi viene naturale. Per maggiori approfondimenti e per parlare ancora un po' con Elia Schiltz, vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21.30 su TV Prato con la quarta puntata di White & Red. Grazie a tutti.